Musica Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Tele Molise, per il calcio a 5 di Serie B, sabato al Palla Fraraccio, il derby tra i Serni e Cus Molise, per i padroni di casa Matchpoint, per festeggiare in anticipo la promozione in Serie A2. La prossima settimana il club dei fratelli Jonat sarà in Sicilia, precisamente ad Augusta, per la Final 8 di Coppa Italia. Manca un punto alla matematica promozione dell'Isernia Calcio a 5 in Serie A2. A quattro giornate dalla fine il cammino degli uomini di coach Scarpitti, sabato prossimo, può trovare la parola fine dopo un campionato condotto dall'inizio in modo impeccabile. Ed ecco che i Serni a Cus Molise, in programma al Palla Fraraccio, può diventare un match scorico, da incorniciare in bacheca e custodire gelosamente e con orgoglio nell'album dei ricordi bianco-celesti. Il traguardo incredibile della Serie A2 è davvero vicinissimo per la società guidata dai fratelli Jonata. Partiti con il progetto Isernia qualche anno fa, mossi dallo spirito più importante, la passione. I bianco-celesti, reduci dal successo in casa dell'ultima della classe Shaolin-Socher, hanno il primo match point per chiudere definitivamente i giochi. Proprio sabato scorso la squadra ha leggermente tirato il fiato, vincendo solo 3-1. Importante il successo e dopo due mesi al massimo una prestazione leggermente meno brillante è assolutamente fisiologica. Un recupero di energie mentali in vista della gara contro il Cus Molise e della Final Eight in programma ad Augusta dal 17 al 19 marzo. Ovvio che affrontare la fase finale di Coppa Italia con la 2 in tasca gioverebbe al massimo su tutta la rosa. Con l'obiettivo principale in archivio la mente può essere sicuramente più libera per sfidare le migliori squadre dello stivale. Dunque sabato attenzioni rivolte al derby molisano, atteso il pubblico delle grandi occasioni al palafra raccio. Cus Molise che dal canto suo scenderà in campo con la voglia e l'abnegazione delle ultime giornate. Per i ragazzi di Marco Sanginario la salvezza è davvero vicina. Questo non vuol dire nulla, i cussini proveranno a rendere difficile la vita all'Isernia per portare a casa un risultato positivo. Di certo i bianco celesti non vogliono lasciare questa ghiotta occasione anche per continuare con la legge casalinga. Al palafra raccio nessuno tra campionato e Coppa è riuscito a portarvi a punti. A proposito del Cus Molise è stato respinto il ricorso presentato dal futsal Ruvo contro la squadra Cussina per la presunta posizione regolare di un tesserato molisano. Il risultato maturato sul campo 7-2 il finale al Palaunimol è stato omologato considerando che tutti gli atleti della società Campobassana sono stati regolarmente tesserati. Intanto la squadra allenata da Marco Sanginario ha ottenuto sabato un punto importante contro l'atletico Cassano. Marco Sanginario dunque un ottimo pareggio maturato contro il Cassano insomma ai punti è un risultato che ci sta. È un risultato giustissimo è chiaro che un po' di rammarico c'è per tante occasioni perse spregate sotto porta abbiamo creato tanto capitalizzato poco però tutto sommato un punto il cui peso specifico è notevole in chiave salvezza. Ecco contro un avversario che sicuramente qualitativamente più forte mi piace sottolineare che ancora una volta nei finali di parziale siete venuti fuori perché nel primo tempo insomma gli ultimi 5 minuti sono stati i vostri nel secondo tempo li avete messi alle corde poi ovviamente ci sta l'arrembaggio finale però voglio dire la componente fisica è stata importante. Sì anche dovuto proprio all'età anagrafica dei ragazzi al loro fisico che ci consente di essere molto esplosivi e di durare tutta la partita e soprattutto nella parte finale riusciamo sempre a mettere in difficoltà gli avversari. Un minimo di difficoltà l'abbiamo avuta sul gioco a 5 perché veramente eravamo esausti e loro tatticamente e tecnicamente erano più maturi dal punto tattico e dal punto tecnico insomma le forze erano indiscutibili in campo. Ecco due settimane fa dopo la vittoria a Casalinga insomma nello scontro diretto avevi detto mancano 5 punti ne sono arrivati altri 2 sempre di quest'idea o ne può servire anche qualcuno in meno? Credo che a Trenta sia la soglia salvezza è chiaro che poi dipende tanto dagli altri risultati oggi è una giornata dove ci è andato quasi tutto bene ne prendiamo atto però sono ancora convinto che la soglia salvezza sia a Trenta ci aspettano delle partite difficili due le abbiamo già fatte contro Cassano e contro Barletta ora ci aspettano i Sebna e CBM prima e seconda della classe per poi fare il range finale dove ci aspetta il derby con la Chaminade e poi l'ultima in casa con il Conversano. diciamo che siamo tranquilli se ci avessero detto 7-8 giornate fa che a 4 giornate alla fine avevamo 6 punti in più e quota 27 avremmo messo forse più di una firma quindi adesso ci stiamo rimaniamo con i piedi per terra sappiamo che ci aspettano ancora degli scontri qualcuno diretto e qualcuno proibitivo speriamo di portare più punti possibili a casa. Calcio regionale domani il Macchia di Senni ospiterà il paterno per la gara di ritorno degli ottavi della Coppa Italia interregionale si riprende dal 4 a 1 per gli abruzzesi. Alberto Stasi risultato molto ampio dell'aspettavi? Beh io sì sinceramente sì perché col Venafro abbiamo fatto 15 gol più di questo quindi ero sicuro di vincere abbiamo avuto un piccolo contrattempo con la Coppa anche perché la squadra era rimaneggiata e abbiamo subito la pressione della squadra avversaria. Invece oggi con la squadra al completo abbiamo dimostrato di essere una delle migliori squadre del campionato. Certo che si è comportato bene anche la difesa solo 7 gol in campionato. Il nostro punto di forza è proprio la difesa con una difesa forte si vincono i campionati senza la difesa forte non si vincono i campionati fanno tanti gol ma non si vincono i campionati. Comunque il campionato c'è ancora da dire insomma non è che è finito noi dobbiamo vincere e continuare a giocare così e a dimostrare quello che siamo e vediamo poi alla fine si vedrà. Secondo te come ho chiesto a Panico sarà la partita con il Vasso Girardi che potrebbe decidere le sorti? Ma non credo che la partita sia la partita decisiva perché adesso il Vasso Girardi deve affrontare delle squadre molto forti quelle che abbiamo affrontato adesso noi deve giocare con il Venafro e non credo che sia così facile vincere. Mario Mariani direi una partita perfetta al di là del risultato buone le giocate. Sì effettivamente anzi eravamo un po' preoccupati perché dopo la partita di mercoledì stiamo giocando ogni due giorni ma i ragazzi hanno reagito bene. Poi con l'apporto pure dei due veterani che ci sono mancati mercoledì siamo comportati abbastanza bene. Meglio di così penso che non si può fare. Sta diventando una corsa all'ostacoli con il Vasso Girardi. Sì effettivamente il Vasso Girardi sta giocando il suo campionato. Oggi a sette giornate alla fine continua a tenere la distanza di cinque punti. Depende solo da noi di non steccare in qualche partita che dobbiamo vincere a tutti i costi. Certo i risultati parlano che il Macchia sia nettamente superiore. Ma superiore i numeri dicono questo sia per i golli fatti sia per i golli subiti. Però sai ogni partita ha la sua insidia. Puoi giocare anche con l'ultimo non significa che vai lì e vinci. Bisogna tenere questo passo a sette giornate alla fine ripeto. Se continua così la promozione dovrebbe essere a portata di mano. Campionato di Serie D questo fine settimana la quarta serie nazionale sosterrà per dare spazio al torneo di Viareggio. Mister Silva domani si ritroverà con la squadra a Campobasso per riprendere la preparazione in vista della trasferta di Civitanova Marche. Tornando alla gara contro il San Marino ai nostri microfoni il portiere Emiliano Dini. Il punto della tua squadra qui a Selvapiana praticamente sfuma a 30 secondi dalla fine. Un gran gol quello di Loperfido del Campobasso sul quale davvero non hai colpa. Sì purtroppo è sfumato così un buon punto in trasferta. Non abbiamo fatto una prestazione come nelle scorse partite. Però ci può stare tutto. Dovevamo portare a casa il punto che era fondamentale anche per la nostra classifica. E purtroppo ci è svanito così all'ultimo minuto a 30 secondi dalla fine come hai detto. E c'è questo rammarico qua. Ha fatto un grande gol. Merito a lui. Ecco il nostro modesto modo di vedere le cose sarebbe stato il risultato più giusto quello di 0 a 0. Il Campobasso evidentemente ci ha creduto di più. Ha trovato il gol alla fine. Ma dobbiamo dire che al San Marino che pur aveva dimostrato di voler vincere la partita è mancato il guizzo giusto proprio in area di rigore. Sì c'è mancato l'ultimo passaggio diciamo. L'ultimo diciamo il gol. Il gol che abbiamo trovato nelle scorse partite. Volevamo dare continuità sia di prestazione che di punti. Purtroppo questo oggi non c'è stato. Ci rinvochiamo ancora di più le maniche perché siamo là a pochi punti dei playoff ma anche pochi punti dei playout e quindi la stagione è ancora aperta e non ci dobbiamo buttare giù. Anzi ci deve solo far capire di com'è ancora di più questo campionato che non bisogna mai mollare un centimetro fino all'ultimo. Come abbiamo visto oggi purtroppo ci è andata male a 30 secondi alla fine. Il vostro allenatore ha detto sì il nostro obiettivo era anche diventato i playoff però adesso badiamo la salvezza è meglio. Quanzi questa sconfitta deve essere un bagno di umiltà. Ora dobbiamo pensare ma come abbiamo fatto fino adesso di partita in partita perché dobbiamo pensare a fare tre punti in ogni partita. Così ne usciamo sia dai playout e ancora c'è comunque sia la voglia di arrivare quantomeno ai playoff anche perché sono lì a pochi punti e questo è quanto. Non c'è altro da aggiungere, c'è solo da continuare a lavorare così come stiamo facendo. Purtroppo come ti ho detto oggi la prestazione non è stata di alto livello magari come nelle partite precedenti però ci dobbiamo ancora di più rimborcare le maniche e andare avanti. Per l'Olimpia agnonese sosta importante per recuperare l'energia in vista del rush finale per agganciare la zona playoff. La madre Pietra Daunia, vincitrice lo scorso anno del campionato regionale d'eccellenza molisano ha deciso di ritirare la squadra dal campionato di serie D, girone H per una serie di problemi che sono intervenuti anche con la classe arbitrale la società pugliese ha deciso di ritirarsi dal campionato. Ciclismo, una gara che ha riscosso un grande successo la Fondo Molisana ha chiamato il rival adriatico 1300 atleti provenienti da ogni parte d'Italia una manifestazione sportiva che ha promosso il territorio e incentivato il turismo. Antonio Giuditta, presidente Commissione Sport del Comune di Termoli a rappresentare proprio l'amministrazione comunale in questa gara diciamo che è la gara che avvia praticamente la stagione la bella stagione in rival adriatico per Termoli sicuramente un onore ospitare una manifestazione del genere che richiama in città tantissima gente. Sì, per noi è un onore infatti ci tenevamo a farla partecipare alla manifestazione perché pensiamo che comunque le manifestazioni sportive siano come dire in questo momento storico anche un motivo di interesse turistico infatti se vediamo ci sono mi sembra più di mille partecipanti in questa manifestazione quindi ben vengano di continuo e anche altri tipi di manifestazioni del genere. Termoli che accoglie a braccia aperte questa manifestazione questa idea del gruppo di capeggiato da Bruno Irace è una manifestazione che promuove soprattutto il turismo e questo è sicuramente di abbinamento allo sport. Sì, turismo sportivo come dicevamo Bruno poi voglio dire è un mito nella città oltre a occuparsi di ciclismo se non mi sbaglio si occupa anche di attività podistiche però se pensiamo oggi dicevamo prima con l'amico Michele se pensiamo oggi la città è piena di eventi sportivi di ogni genere quindi credo che se una città vuole crescere deve pensare anche e soprattutto allo sport quindi l'amministrazione comunale è vicina allo sport è vicina a questi eventi anche perché promuovono ovviamente non solo la città ma anche il turismo Sì, è chiaro che è un periodo particolare in generale per le attività sportive perché comunque c'è carenza di strutture soprattutto ci sono strutture inadeguate che vanno sicuramente risistemate in qualche modo l'amministrazione è vicina a questi tipi di attività e soprattutto ha intenzione comunque di rimigliorare ripristinare un po' tutte le strutture sportive anzi il più possibile Senti, è una manifestazione che cresce anche perché quest'anno rispetto alle ultime 16 edizioni addirittura ci saranno tre partenze si è aggiunto un nuovo gruppo e questo è un segnale di chi lavora veramente un anno intero per mettere in piedi una manifestazione del genere Certo, come dicevamo prima è chiaro che quando si tratta di organizzare eventi del genere comunque ci vuole una grande passione innanzitutto e poi quando il risultato è questo vuol dire che si lavora bene e quindi le amministrazioni devono stare per forza vicine a questi tipi di eventi Campionati nazionali universitari comincia oggi pomeriggio l'avventura del Cus Molise calcio a 5 nei campionati la selezione guidata da Marco Sanginario giocherà sul campo del Cus Bari la gara di ritorno è in programma al Pala Unimo l'il 21 marzo Palla a volo di serie D niente da fare per la nuova Palla a volo Campo Basso il derby di ritorno è stato vinto 3 a 1 dal Termoli il commento di Lucia De Soccio Lucia De Soccio nel derby contro il Termoli arriva a una sconfitta per la nuova Palla a volo Campo Basso le ragazze hanno giocato possiamo dire effettivamente a tratti sì purtroppo il fatto che mancava Valentina Laudati ha un po' smobilitato la situazione poi tra l'altro oggi avevamo anche altre tre frebricitanti per cui non avevamo nemmeno campi in banchina non ci stiamo allenando bene io sono un po' indignata con queste ragazze perché sono molto alterne ogni scusa è buona per marinare l'allenamento e questo purtroppo alla lunga si vede che in effetti quest'altalenare che tu hai notato è proprio un discorso di poca applicazione e poca ripetizione durante la settimana che purtroppo ci vede sempre in affanno è pur vero però che siete anche una squadra giovane lo dobbiamo dire abbiamo visto tra l'altro in campo anche in questo derby la Mancini che comunque è una squadra giovane abbiamo più volte comunque parlato anche della colonna della Mastro Berardino comunque è una squadra che deve crescere sotto il punto di vista soprattutto anche caratteriale forse sì però la Mastro Berardino è una ragazza che si allena e quindi si vede che fa la differenza le altre purtroppo ancora non entrano nell'idea che questo è un campionato serio e che se si vuole salire di categoria bisogna fare sacrifici anche disumani ma bisogna farli anche perché noi dalla nostra parte possiamo mettere il cuore la tecnica, la passione noi stipendi non ne abbiamo abbiamo giocato contro una squadra che è costruita che ha speso tanto per vincere questo campionato è onore al merito però questa differenza alla fin fine non è che poi si è notata tanto perché noi siamo stati lì 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 e poi per un niente andiamo giù quindi questo è il discorso che deve farci riflettere e andare in palestra con più costanza e più determinazione adesso il riscatto dovrà passare però probabilmente per una trasferta quella di Ortona eh sì vabbè oggi smaltiamo questa situazione in settimana speriamo di recuperare un po' di persone e di andare ad Ortona a fare risultato perché ci serve tanto, fa morale, fa classifica e se vogliamo risalire è l'unica soluzione Basket in carrozzina fine settimana di riposo per la Fly Sportina in Molise che riprenderà le ostilità il prossimo 18 marzo in casa della vice capolista Lecce due settimane di allenamenti che serviranno per programmare al meglio gli ultimi turni di campionato che vedono i cestisti molisani almeno per ciò che concerne la matematica ancora in lizza per un posto nei playoff campionato di promozione la sconfitta di Rocca Sicura complicato la situazione del Cerce Maggiore Manolo Sacco, allenatore del Cerce Maggiore insomma una partita su un campo pesante difficile per tutti poi gli episodi come tutti abbiamo visto è finita in 10 contro 9 poi 1 a 0 per il Rocca Sicura come analizza questa sconfitta? Vabbè l'analisi l'hai fatta tutta tu il campo era pesante noi eravamo venuti qua per cercare di tirare fuori almeno un pareggio per smuovere la classifica purtroppo una disattenzione difensiva lì abbiamo lasciato l'uomo da solo di concludere in aria e purtroppo abbiamo perso una partita nervosa però ci poteva stare visto l'importanza proprio della partita in sé Ecco il cammino della salvezza resta comunque complicato anche se mancano sette partite c'è da inseguire soprattutto la Maronea e poi non far scappare quelli lassù per la regola dei 10 punti e per giocare questi playoff in buone condizioni Ma il problema è che fare conti adesso secondo me è prematuro bisogna lottare partita per partita cercando di smuovere la classifica in ogni partita al di là della Maronea al di là della quindultima che ci potrebbe essere la forbice dei 10 punti però noi dobbiamo soltanto pensare a fare risultati utili partita per partita e a volte anche il pareggio ci smuove la classifica e ci dà coraggio per affrontare la partita successiva Prova in colore del Castel Mauro a Baranello Giuseppe Trollio direttore sportivo del Castel Mauro un Castel Mauro che non viene fuori dalle impasse No, oggi forse non abbiamo fatto una grande partita anche perché ci mancava un paio di giocatori in difesa ma non so forse lo svolto della partita è stato il secondo gol che un po' il portiere ha peccato un po' niente e su questi cambi non è che puoi venire a prendere i punti comunque noi andiamo avanti il nostro obiettivo è sempre la salvezza E infatti erano punti questi che potevano servire proprio in vista di eventuali scontri diretti per la zona salvezza Certamente noi quando veniamo andiamo a giocare andiamo solo con lo spirito che li porterà accanto a casa almeno dei punti però durante la partita poi ci sono degli episodi che che poi risultano negativi per noi e quindi alla fine poi la perdiamo la partita niente oggi non abbiamo fatto una grande partita il Baranella ha meritato di vincere forse il risultato un po' un po' pesante per noi il 4 a 0 è un po' pesante comunque va bene anche così Nella prossima giornata in casa affronterete il Campomarino cosa vi aspettate il Campomarino è una squadra come tutte le altre noi in casa lì dobbiamo fare i punti in casa se abbiamo lo spirito adatto per affrontare una partita contro una squadra come il Campomarino che poi penso che sarà la nostra portata la vinciamo la partita certamente se facciamo una partita come questa che abbiamo fatto oggi non la vinciamo sicura perché le partite vanno giocate con grinta con voglia e con determinazione certamente se andiamo sul campo come dei ragazzini di prima elementare seconda elementare non possiamo vincere mai la partita sicuramente adesso chiudiamo con le grafiche di seconda categoria seconda categoria girone A 17esima giornata alla Fidelis Montenero 3 a 1 Macchia Godenese Castel di Sangro 0 a 3 Masseria della Corte Domenico Lesisto 8 a 2 Miranda Sporting alla Pietra 2 a 1 Real Carsales Sant'Angelo 0 a 0 Sepino Giovanni Morconi 2 a 4 Sassinoro Football Club ha riposato 40 punti alla Fidelis 37 Masseria della Corte 36 Castel di Sangro a 29 c'è la Sporting la Pietra di seguito le altre ed ora spostiamoci nel girone B 17esima giornata Acli Calcio Campobasso Casali Downi 0 a 3 Audax Toro Real Gambatesa 2 a 0 Campolieto Fiamma Folgore 0 a 0 Celenza Reds 4 a 1 Morge Pietracatella la seconda Baranello 0 a 2 realmente Cerce Piccola Polisportiva Fortore 0 a 3 San Marco Lacatola San Giovanni Ingaldo 1 a 2 in testa 42 per Casali Downi 40 Fortore 38 realmente Cerce Piccola 34 Celenza di seguito le altre e chiudiamo con il raggruppamento C della seconda categoria questi i risultati della 17esima giornata Giovanni Castropignano Accademia Britannica Campobasso 3 a 0 Guardia Alfiera Fossaltese 2 a 2 Montagano Petrella Trecolli Rotello 2 a 1 Muxufuni Mundimitar 1 a 0 Oratino Roccaravindola 2 a 3 Salcito Matrice 0 a 1 Torella del Zannio Polisportiva Calena 0 a 2 La classifica 45 per Calena 40 Matrice 32 Guardia Alfiera 28 Castropignano 27 Rotello e Rocca Vivara Di seguito tutte le altre Bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport Buon pomeriggio Lo Pronto bic Fa ai Wall akan Cao